Penso che il ricordo più bello sia quello da Wembley, l'abbraccio con il mister e lì c'era la vera essenza di quello che era Gianluca. Comunque è stato un esempio di vita perché oggi non ci ricordiamo quasi nulla di quello che ha fatto da campione, perché quello che ha fatto da uomo è stato ancora più grande, è stato immenso e Gianluca è stato veramente un esempio per tutti in campo e fuori. Assolutamente sì, come detto è stato l'esempio perché nonostante ci avesse la sua partita da vincere era lì con noi, partecipe, un elemento importante, molto importante che ci ha permesso di risarire dopo la diluzione del mondiale 2018, vincere un europeo e saper trovare le parole giuste per ripartire dopo la diluzione di Palermo. Ci insegnano la vita, ci insegnano la vita perché a volte ci lamentiamo per cose superfue quando la vita è alta, ci perdiamo dietro a cose fine che invece non contano poi così tanto.